Professor Conte, il suo breve commento alla classifica? Ma per seguire il consiglio del professor Caprara e rifuggire le nostalgie dei grandi incassi del passato, mi viene da dire che questa che è la penultima classifica dell'anno solare, già ci fa pensare a quello che è un po' il bilancio finale. Pensate che nel 2021 soltanto un film aveva superato i 10 milioni di euro di incasso, nel 2022 a fine anno ne avremo almeno 10. Questo significa che il cinema è effettivamente in ripresa. Per dare soddisfazione alla curiosità del direttore Cucci, la stranezza è il vero grande outsider rispetto alle grandi pellicole internazionali, perché nei 10, over 10 milioni di euro, non c'è purtroppo neanche un film italiano nel 2022. Però c'è la stranezza che ha superato i 5 milioni di euro, sono anche molti altri film che sono andati bene, penso a nostalgia, però il cinema italiano si è ripreso soprattutto da dopo l'estate in poi. Speriamo che ora che il Covid sembra che ci voglia lasciare un po' in pace, l'anno prossimo le classifiche viaggino ulteriormente più veloci. L'importante è che le classifiche siano andate avanti per quanto riguarda gli incassi. Dico bene, Valeria? Siamo felicissimi tutti quanti. Grazie. Grazie. Grazie.